La Guardia di Finanza di Corigliano Calabro, conclusione di un'articolata e complessa attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha smascherato una truffa ai danni dell'Inps perpetrata dalla cooperativa agricola di Caputo Francesco di Corigliano mediante 335 false assunzioni di dipendenti, con un danno alle casse dello Stato per oltre 800.000 euro. L'impresa presentava all'ente previdenziale falsi contratti di fornitura di frutta e contratti di comodato d'uso gratuito e affitto di terreni riconducibili a soggetti ignari, completamente estranei alla truffa, nonché fasulle denunce aziendali trimestrali, attestanti l'impiego mai avvenuto di operai al fine di consentire l'indebita percezione di indennità di disoccupazione, malattie e maternità. Nel corso delle indagini sono state acquisite informazioni dei proprietari di terreni estranei alla truffa e attraverso l'analisi documentale sono state ricostruite le false dichiarazioni e comunicazioni all'Inps. Oltre 27.000 le giornate lavorative mai effettuate e comunicate che hanno fitiziamente generato falsi costi di personale per oltre 1.500.000 euro. Al termine delle indagini il rappresentante legale dell'impresa è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari per truffa aggravata ai danni dell'ente previdenziale è falso, mentre 335 falsi braccianti sono stati segnalati per il reato di truffa aggravato. L'attività svolta si inquadra in un più ampio dispositivo di polizia economico-finanziaria predisposto dalla Guardia di Finanza.